Passa a favorito Raoul Firm, numero 2, paga 2,67. 3,52, Eritarez, 5,11, Ray Di Luggi, 4,00, Romantica Lux. Artepiano, Risera, Jet. Stacco della macchina, l'errore di Romantica Lux dall'esterno, Ray Di Luggi, sopravanza Romualdo e Regolo Parra, poi Raoul Firm. Sponda Ray Di Luggi all'imbocco della prima curva, violento il lancio in 13,2. E così Ray Di Luggi in avvantaggio a metà della prima curva nei confronti di Romualdo che va a chiedere strada, la ottiene al termine dei primi 400 metri in 28,3. Si va davanti alle tribune, Romualdo al comando, prova a riprendere in mano, Ray Di Luggi in seconda posizione, avanza a largo Revasca, Jet, che offre punto di riferimento a Retarez. I primi 600 metri in 44, Romualdo manda via a Revasca, Jet, e rimane in faccia alla compagna Retarez, che ora si trascina Risera, Jet, a largo anche Romeo Griff, si sono formate le pariglie, ma poi Retarez riesce a parcheggiare davanti a Romualdo. Un minuto, metà gara, da 1,15, Revasca, Jet, batti strada nei confronti di Risera, Jet e Retarez, poi Romualdo che sembra accusare a largo Romeo Griff al completamento del chilometro iniziale, in 1,15,9. Revasca e Risera, Retarez, lì a guardarle, poi Raul ferma che viene via deciso in terza corsia, quando si va all'imbocco della curva conclusiva, Risera, Jet, che si fa più insistente con un paletto in 15,2, mette mezza lunghezza avanti a Revasca, Get, Retarez che anticipa Raul ferma, poi Ray Di Luggi al lato di Romualdo, tre in diagonale, Risera, Rita Rizza e Raul ferma, quest'ultimo poi a bozza, Rita Rizza che parte alla carica, va ad attaccare, Risera, Jet a metà addirittura, Risera, Jet di dentro, Rita Rizza a largo, poi Raul ferma che prova a riproporsi, il palo che si avvicina, di dentro Risera, Rita a largo, Risera, Jet lungo i paletti, forse mantiene mezza navice di vantaggio nei confronti di Rita Rizza, mentre al terzo posto Raul ferma, due, uno e mezzo sul mio cronometro, trenta e quattro, gli ultimi quattrocento metri, uno, quindici e nove, il riferimento cronometrico perché Risera, Get è in linea con Rita Rizza, anche se probabilmente riesce a salvarsi al terzo Raul ferma, a sette e undici due, l'arrivo ovviamente ufficioso della quarta, provabile vittoria di Risera, Jet, le mani e il training di Salvatore Negro, i colori del signor Roberto Banzanelli.